A questo punto c'è l'ufficialità di tutto il centrodestra sulla sua ricandidatura o aspetta ancora una risposta? Ma no, mi sembra proprio che al di là del fatto che i singoli rappresentanti del centrodestra l'abbiano ripetutamente confermato, mi sembra che a questo punto non c'è neanche bisogno di una formalizzazione, è già in reipsa la cosa, proprio perché loro l'hanno sempre detto.